Sabato prossimo alle ore 17 alla Gran Guardia, terzo appuntamento della rassegna Marzo di Libri con la presentazione del libro di Linda Rossi, Margherita, storia di bullismo, sorriso e occhiali rossi edito da Fabbrica dei Segni. Introduce l'autrice Chiara Marotti. Allora Margherita è un libro che parla di bullismo e che però si propone di farlo in un modo positivo attraverso proprio la voce della protagonista che è questa bambina di 5 anni che si trova ad affrontare l'arrivo in una nuova scuola e anche l'incontro con alcune forme di bullismo. La sua particolarità è quella di mantenere sempre un atteggiamento positivo che poi la porterà a trovare delle soluzioni al suo problema, diciamo. Linda Rossi, l'insegnante elementare, quindi un suggerimento a una via d'uscita anche per molti bambini che oggi purtroppo si trovano a dover affrontare questo problema. Sicuramente il non sentirsi soli e cercare un appoggio nelle persone, negli adulti e nei coetanei che si possono avere intorno, anche da parte di chi invece, quelli che sono le persone che si rapportano con i bambini, non sottovalutare i sentimenti di questi ultimi e tramite sicuramente il dialogo e l'ascolto si può arrivare a una soluzione. Da dove è scaturita la decisione di scrivere questo libro per bambini ma sempre un libro? Penso che le parole siano molto importanti per affrontare questi temi, soprattutto in tutti i casi ma soprattutto per affrontare questi temi. Poi sicuramente c'è anche un po' di esperienza personale riguardo a questo quindi comunque si tratta di un tema che tengo molto.